una buona giornata a tutti quanti questa mattina vi leggerò un'omelia un'omelia che è stata stata fatta durante una santa messa nel nel settimo secolo dopo cristo ci risale durante il periodo circa 680 690 dopo cristo queste omelie venivano fatte durante la santa messa nei giorni che precedono l'avvento di cristo cioè la nascita del nostro signore quindi durante il periodo diciamo che precede il natale venivano fatte queste omelie che riguardano appunto gli episodi che leggiamo nel vangelo il racconto che leggiamo nel vangelo che riguarda appunto la nascita del nostro signore si tratta di un'omelia che troviamo nel sono omelie sul vangelo da parte del venerabile e santo veda che è uno vi ricordo sempre è uno dei 35 dottori della chiesa quindi ascoltate bene perché ci parla appunto della madre della chiesa della madre di dio la beata vergine maria allora è tratta da dalla lettura di luca quindi ci spiega luca capitolo 1 versetti da 26 fino a 38 leggo testualmente alcuni brani chiaramente non leggerò tutto quindi omelia 1 terza parte la lettura del santo vangelo di oggi fratelli carissimi ci ricorda il principio della nostra redenzione narra infatti che dio mandò dal cielo un angelo alla vergine per annunciare la nuova nascita del figlio di dio nella carne grazie alla quale noi rimosso il vecchio peccato possiamo essere rinnovati e considerati figli di dio pertanto al fine di meritare di raggiungere i doni della salvezza promessa ascoltiamo l'inizio del vangelo con orecchio attento l'angelo gabriele fu inviato da dio in una città della giudea chiamata nazareth a una vergine promessa un uomo di nome giuseppe certo è stato conveniente inizio della salvezza dell'uomo il fatto che un angelo sia stato mandato da dio a una vergine per consacrarla con un parto divino dato che la prima causa della rovina dell'uomo era stato l'invio del serpente da parte del diavolo per ingannare la donna con spirito di superbia cioè eva anzi sotto forma di serpente venne proprio il diavolo per ingannare i progenitori e privare così il genere umano della gloria dell'immortalità poiché dunque la morte entrò per mezzo di una donna cioè eva è giusto che anche la vita ritorni per mezzo di una donna cioè la beata vergine maria quella eva ingannata dal diavolo per mezzo del serpente offrì all'uomo il sapore della morte questa cioè maria edotta da dio per mezzo dell'angelo ha generato al mondo l'autore della salvezza fu mandato dunque da dio l'angelo gabriele leggiamo di rado che gli angeli che appaiono agli uomini sono indicati per nome ma quando accade avviene perché anche col nome sia suggerito quale compito essi vengono a svolgere gabriele infatti significa fortezza di dio e ha ragione risplende di tale nome colui che rende testimonianza a dio che sarebbe nato da carne umana di lui il profeta dice nel salmo il signore è forte potente il signore è prode in battaglia salmo capitolo 23 versetto 8 certo nella battaglia che veniva a sostenere per debellare le potenze del cielo e strappare il mondo dalla loro tirannide poi ancora leggiamo era inoltre opportuno che la puerpera fosse assistita dall'aiuto di un uomo cioè maria doveva essere assistita dall'aiuto di un uomo per quelle incompense che usualmente esige la cura della casa bisogna poi che la vergine maria cioè bisognava poi che la vergine maria avesse un marito che fosse certissimo testimone della sua integrità e custode fedelissimo del figlio nato da lei il nostro signore salvatore quindi ci spiega il motivo perché maria appunto era sposa di di giuseppe perché appunto giuseppe aveva il compito di custodire maria e di crescere chiaramente il bambino questi cioè giuseppe avrebbe dovuto portare le offerte al tempio per lui secondo la legge lo avrebbe condotto in egitto con la madre quando incombeva la persecuzione lo avrebbe riportato indietro e gli avrebbe somministrato le tante cure necessarie che la fragilità della natura umana richiedeva ne inocque molto il fatto che qualcuno per qualche tempo lo abbia creduto figlio di giuseppe dato che quando dopo la sua ascensione gli apostoli cominciarono a predicare a tutti i credenti fu chiaro che egli era nato da una vergine ne dobbiamo passare sotto silenzio che la beata madre di dio rese testimonianza anche col nome ai suoi straordinari meriti infatti maria significa stella del mare e quasi stella straordinaria rifulse in grazia di un privilegio speciale tra i frutti del mondo incerto e vacillante l'angelo entrato le disse ave piena di grazia il signore è con te benedetta fra le donne questo saluto quando è estraneo alla consuetudine degli uomini tanto è adatto alla dignità della beata maria perché era veramente piena di grazia colei alla quale prima fra le donne fu congesso per dono divino di offrire a dio il glorioso dono della verginità perciò a buon diritto lei che aspirava a imitare la vita degli angeli era veramente piena di grazia lei che ebbe il dono di generare gesù cristo colui per mezzo del quale sono venuti nel mondo verità e grazia giovanni capitolo 1 versetto 17 perciò veramente il signore era con lei quando prima col nuovo amore della castità la innalzò dalle cose terrene al desiderio dei beni celesti e poi in virtù della sua natura umana la consacrò con ogni pienezza di divinità veramente benedetta fra le donne lei che senza esempio nella condizione femminile godesse godesse godette sia del decoro della verginità che dell'onore di essere madre e come conveniva a una vergine madre generò il figlio di dio vi leggo ancora più avanti qualche altra cosa l'angelo gli disse lo spirito santo verrà sopra di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà con la sua ombra per questo il bambino che nascerà sarà chiamato figlio di dio lo spirito santo discendendo sulla 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 vergine mostrò in lei mostrò in lei lo spirito santo dimostrò in lei l'efficacia della sua divina potenza infatti dice creò nel suo vendere il corpo santo e venerabile del nostro redentore solo con la sua opera cioè senza contatto di uomo formò la carne santa dalla carne pura della vergine quindi la carne santa del nostro signore gesù cristo è stata formata tratta dalla carne pura della vergine quello che prima aveva definito apertamente spirito santo questo stesso l'angelo ora chiama potenza dell'altissimo secondo quando secondo quando ha detto il signore quando promise ai discepoli la venuta dello spirito santo la potenza dell'altissimo coprì con la sua ombra la beata madre di dio perché lo spirito santo quando rienvi il suo cuore lo liberò da ogni desiderio di concubiscenza carnale lo purificò dai desideri terreni e nello stesso tempo consacrò il suo col il suo corpo e la sua anima coi doni celesti per questo dice l'angelo a maria il santo che nascerà sarà chiamato figlio di dio dato che concepirai per santificazione dello spirito santo e sarà santo ciò che sarà generato la nascita è in armonia con la concezione di modo che colui che tu vergine concepisci in contrasto col modo della condizione umana lo generi figlio di dio trascendendo ancora il modo dell'umana consuetudine tutti noi infatti qui dice siamo stati concepiti nell'iniquità e nasciamo nel peccato e quando poi siamo siamo per ordinati alla vita eterna rinasciamo per l'acqua e lo spirito santo e ancora vediamo cos'altro vi posso leggere e concludo questa omelia chiaramente non ve la leggo tutta perché sennò verrebbe troppo lungo vi leggo soltanto alcune parti poi ci cita la scrittura di malachia per voi che temer che temete sorgerà il mio il mio nome come sole di giustizia di questo sole di giustizia la beata vergine accolse i raggi quando concepi il signore ma questo sole cioè la divinità del nostro redendore si celò dietro la copertura della natura umana quasi il riparo ombroso per la cui mediazione le viscere della vergine fossero capaci di sopportarlo e così la potenza dell'altissimo l'adombrò quando la divina potenza di cristo e la riempì nella sua presenza e si coprì con la fragilità della nostra sostanza per poter essere accolta da lei e poi dice ancora per concludere ricevuta dunque una grazia così grande vediamo con quando attaccamento la beata maria persista nell'umiltà ed ecco l'angella dice maria ecco l'angella del signore sia fatto di me secondo la tua parola conserva grande costanza di umiltà con lei che scelta come madre si dice angella del suo creatore e detta beata fra le donne dall'annunzio dell'angelo ancora sconosciuta agli altri uomini le vengono rivelati i misteri della nostra redenzione e tuttavia non si esalta per la singolarità di un merito tanto eccezionale ma memore in tutto della sua condizione della perfezione divina si unisce con umiltà al consorzio delle angelle di cristo e al servizio di cristo accetta devotamente ciò che le ciò che le ha comandato sia fatto di me disse secondo la tua parola avvenga che lo spirito santo venga a rendermi degna dei misteri celesti che nel mio seno il figlio di dio rivesta l'aspetto della sostanza umana e come sposo avanzi dal suo talamo per la redenzione del mondo seguendo la sua voce e la sua intenzione fratelli carissimi secondo le nostre capacità consideriamo che siamo servi di dio in tutte le nostre azioni e i nostri affetti assoggettiamo al suo osseguio le membra del nostro corpo dirigiamo tutta l'intelligenza della nostra mente a compiere la sua volontà ricevuti così i suoi doni rendiamo grazie vivendo rettamente per meritare di essere degni di ricevere ne più grandi preghiamo assiduamente con la beata madre di dio quindi vedete pregavano chiedevano intercessione a Maria già nel già nel nell'ottavo secolo ma anche prima anche prima i padri della chiesa testimoniano che venivano chieste preghiera ai santi per intercessione nei nostri confronti quindi preghiamo assiduamente con la beata madre di dio che sia fatto di noi secondo la sua parola la parola cioè con la quale espone il motivo della sua incarnazione infatti dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo figlio unigenito affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna Giovanni 3 16 ne dubitiamo che si degnerà di esaudirci subito quando grideremo a lui dal profondo salmo 129 1 egli che quando ancora non lo conoscevamo si è degnato di discendere per noi in questa profonda valle di lacrime Gesù Cristo nostro Signore che vive e regna col Padre nell'unità dello Spirito Santo Dio nei secoli dei secoli Dio